E quest'anno studiamo la storia alle origini dell'universo, alle origini del mondo. Questa storia della Terra, lo si sa, è cominciata miliardi di anni fa. Un Big Bang, esplosione inaudita, un intero sistema diede vita. Era all'inizio una palla di fuoco che si raffreddò poco a poco e intorno al sole si messe a ruotare con gli altri violetti del sistema solare. E gli anni ne passarono un milione, ci furono lampi e le elezioni. E poi quando la pioggia fu finita, qui sulla Terra è quella che è finita. Piccole creature nacquero nel mare, le altre ancora vogliono il mare e qui sulla Terra gli altri animali crescerono i luoghi un po' speciali. Gli altri animali, ancora non formati, stavano uniti e tutti ammucchiati. Era, se posso darvi un'idea, un'isola enorme, Pangella. Amfibi e rettili strisciavano nel mare. Celle enormi potevano volare. La nostra terra terra era allora assai diversa da come pare ora. Cominciarono a moltiplicarci, piante e animali, altri scomparsi, anche dinosauri giganteschi che nei libri sembrano fiammissimi. Ecco degli strani animali. Non erano giganti, non avevano anni, ma nascevano dalla madre belli e sani. Erano mammie frantanate di gatti e cani. Poi ancora tanto tempo passò il bus sulla Terra l'uomo. E poi ve lo racconta a modo mio e in questo modo ci sono anche io. Di quelli lontani c'è poca memoria, perciò noi studiamo la storia. Ci aiuta insomma un pochino a capire da dove siamo. Nadie è come le bambine. Ci aiuta insomma un pochino a capire